Un cordonetto di cotone bio certificato viene costruito con una doppia ritorcitura compattata da una piccola percentuale di poliestere elasticizzato che permette di ottenere un filato con struttura corallina adatto ai più bei punti tridimensionali che lo stile vorrà pensare. Questo filato con un titolo 3800 a lavorare sulla finezza 5 suggerisce immediatamente maglie senza tempo essenziali nella loro classicità con righe, coste inglesi, trecce. Minimo producibile per questo articolo sono 13 kg. La cartella colori suggerisce toni di stagione e segnala quelli pronti per campionatura.